ciao raga come sta io chiacchiericcio non che video blog questo per parlare un po di me ma soprattutto allora comincio subito a dirvi che se questo video vi può piacere vi interessa di mettere un like in anticipo un commento e soprattutto se mi interessa anche il mio canale youtube iscrivervi e attivare la campanella tutte le notifiche voglio dire allora innanzitutto premetto facendo più che la premessa ho il mio bel quaderno qua sotto non lo vedete ma c'è eccolo qua vedete perché ho preparato il video quindi dalle ciance e cominciamo allora maggio e aprile come musica mi sta piacendo molto venia che si sembrita venia allora come altra musica piace giorgia si vedete guardare qua sotto perché sto leggendo cesca la nuova francesca che ha vinto a san re oltre a giorgia vabbè a parte laura pausini e tanti altri tipo valido escano per esempio terza cosa mi piace come make up sia quello opaco che quello leggero sarebbe quello morbido poi del mascara che mi piace tanto quel mascara che mi mette come vedrete che mi vedete sempre mettere come vedete sempre mettere nei tutorial che faccio di youtube ovvero la mano perché me l'ho già preparato sennò questo video diventa troppo lungo e non me lo guardate come mascara eccolo qua ed è questo qua della rimmel 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 speed e questo è il mio mascara preffe per il momento della volume extreme black 0 3003 eccolo qua poi andiamo avanti conto poi cibo sto amando ovviamente amando si fa presente perché non mi fa impazzire ma lo sto mangiando perché ho uno sto chiede pietà perché sto mangiando cose che dovrei smesso di mangiare come il fritto e altre robe varie comunque sto passati di verdura con delle verdure con dentro della minestrina stellino ve lo consiglio anche se mi può interessare ovviamente sei che cosa mi piace di sopra questo ora in questo momento avrete già visti sicuramente anche nei short terramana più bella che c'è di spagna e anche la promessa la promessa è una delle più belle si vedono su canale 5 sì lo so mi direte che è per vecchietti ma io vedo che i ragazzi della mia età non tutte se lo guardano quindi non ci credo nulla di male anzi perché tra l'altro c'è su canale 5 sempre c'è viola viola come il mare top questo era tutto il prossimo video vediamo come me lo preparerò per momento erano solamente sei no sì uno due tre quattro cinque sei sì a ps mi piacciono i capelli come l'ho messo io speriamo di sì perché siccome quando li leggo troppo li leggo troppo stretti o li leggo proprio leggeri leggeri vicinanti mi ha un mal di testa che io non sopporto quindi mi perdonerete se lascio i capelli così grazie dell'ascolto perché no ci si vede è un prossimo video ciao a presto un bacio